Si è riunito il Consiglio Comunale di Canichetti tra le altre cose, oltre ai debiti fuori bilancio, c'era anche una sua interrogazione sul cimitero che è un problema che la cittadinanza avverte. Lei come portavoce del Movimento 5 Stelle si è fatto un po' portavoce di queste esigenze. Soddisfatto un po' anche delle risposte sono arrivate all'amministrazione o no? Allora no, diciamo che per quanto riguarda le risposte sul cimitero sono stati un bel discorso, una bella relazione da parte dell'assessore che sicuramente è pieno di buoni propositi, però magari sarei aspettato avere qualche risposta in più, più nel concreto, cioè anche ci sono alcune cose molto pratiche, molto semplici che magari si potrebbero anche risolvere con un tempo minore. Comunque diamo anche un po' di tempo a questa amministrazione, sicuramente non moltissimo, perché ormai sono già sei mesi quasi che si sono insediati, quindi diamo ancora qualche tempo per poter affrontare i problemi e speriamo che al più presto si possano risolvere, sempre perché il nostro intendo è quello di salvaguardare e andare incontro i cittadini che poi sono loro che ci hanno anche portati là a rappresentarli. Ecco, debiti fuori bilancio, situazione economica delle comune che ancora non si capisce in quale stato di salute è, sappiamo che è messa male, insomma. Alcuni debiti fuori bilancio sono stati discussi, altri rinviati, uno è stato anche bocciato. Qual è la posizione del Movimento su questi atti che arrivano in Consiglio Comunale? Noi siamo, il Consiglio Comunale ormai sta diventando specializzato nel studiarsi, nell'esaminare, nel controllare tutti questi debiti fuori bilancio che ne arrivano anche parecchio da ogni Consiglio Comunale e questo sicuramente personalmente, almeno parlo per me, riduce molto la funzione di un Consiglio Comunale che dovrebbe essere di propositivo, dovrebbe essere di portare proposte nuove per cercare di, invece, stiamo sempre lì a studiarci questi debiti fuori bilancio che poi sono, quando specialmente c'è una sentenza esecutiva da parte del giudice, diciamo che non votarlo, non possiamo esimerci perché questi soldi bisogna darglieli e quindi a chi giustamente fa causa, a chi giustamente fa le proprie richieste e quindi diciamo che pur non avendo, tra l'altro, uno, non l'abbiamo, diciamo, esitato proprio perché non abbiamo lo strumento finanziario, quindi siamo in una fase ancora di transizione ancora dobbiamo, si deve approvare, si deve, e quindi sicuramente diventa molto riduttivo quello che è il compito, praticamente, di un Consigliere Comunale però dobbiamo votarli, dobbiamo esitarli e si prova ad andare avanti speriamo che non ci siano problemi più gravi nel prossimo futuro Ecco, in questi circa sei mesi, insomma, da quanto siete stati eletti a quanto siete insediati in Consiglio Comunale non è che ci sia stato granché da discutere in Consiglio a parte qualche debito fuori bilancio, l'insediamento, tolte queste sedute di problemi reali se ne è parlato poco forse Sì, se ne è parlato poco anche perché dobbiamo ricordare che non avevamo ancora le commissioni quindi si è lavorato un po' sul nuovo regolamento del Comune per sistemare un po' il discorso, siccome si sono ridotti il Consiglio Comunale bisognava sistemare anche il discorso delle commissioni quindi un po' si è perso, tra virgolette, un po' di tempo in questo senso però adesso le commissioni ci sono, i presidenti sono stati eletti quindi bisogna cominciare subito a lavorare nella speranza di portare proposte da parte mia già ho iniziato ne ho presentato anche un'altra interrogazione che spero si possa anche discutere nel prossimo Consiglio Canicati è piena di problemi, lo sappiamo non è una cosa che possiamo nascondere però adesso bisogna veramente cominciare a risolverli questo è il nostro intento